Un 22enne di Cerignola, Antonio Specchio, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri per aver rapinato lunedì scorso, attorno alle 20.30, una farmacia del posto. L'uomo che è stato incastrato dal video delle telecamere di sorveglianza è entrato nella farmacia a volto scoperto, armato di coltello, portando via 250 euro dalla cassa prima di fuggire. I carabinieri hanno riconosciuto il giovane perché solo pochi giorni prima erano intervenuti al pronto soccorso, dove il giovane aveva dato in escandescenze, creando disordini tra la gente in attesa. I militari hanno rintracciato il 22enne in macchina con il padre e un parente. Il ragazzo ha immediatamente ammesso le sue colpe e fatto recuperare l'area furtiva. Ora si trova nel carcere di Foggia.